ciao ragazzi e ragazze cosa mi hai preso qua oggi? noi siamo andati sul 50 per questi ci sono no ragazzi 50 per dove ho preso sempre l'amico cinese? ho preso da Rashid Ahim dai Rashid Ahim 50 per ma l'abbiamo già impronta sul 50 per ora è il tutto per tutto no mi ha preso 50 per una volta ragazzi proviamo venite con noi 50 per vai piano perché già qui ho il telefono che sfoca eh sfocante mandiamo i primi numeri allora 29 37 23 41 5 per 10 lo teniamo eh di scorta un attimo solo dobbiamo mettere gli occhiali fermi tutti eh perché concedo bene eh allora calma allora 29 37 23 41 ok per 5 per 10 lo teniamo vogliono sapere le cabale eh ragazzi le cabale incominciamo adesso che sono numeri che sono fuori cabala sono fuori cabala allora il numero 17 poi la è la punta del diamante benissimo poi c'è 19 è il mio numero della mia amica e il rosmarino dai rosmarino 34 oh la mia amica di zia margherita l'umido 43 i peperoni benissimo 22 gli orfane le mutande bollate 52 il cottechino aspetta grattai bene il primo lì che non vedo che il numero è non vedo che si è stordita quale il primo cos'è 29 non posso grattare viene via viene via la colla ma donna è rovinato 25 che cos'è 25 è la è la il boulevan dai volevano 21 21 è la riuscimata è il numero prima del 22 11 orca mi sembra che l'ho visto non c'era l'11 ci ho inciolato l'11 ragazzi l'11 è lo stambecco in amore dai 12 lo stambecco che è amato 26 lo stambecco che si riposa benissimo 31 31 lo stambecco che è piena la stambecca è piena aspetta un attimo fermati che mi fa male la mano 38 aspetta devo sistemare così vai giro pizza giro pizza 18 è il tanga 47 è morto che parla è morto che ciabbala noi ridiamo il che siamo e diciamo un cazzo 42 non dire parolacce abbiamo 41 42 è gli gnocchi fritti dai 30 un giorno nostro matrimonio è la bastonata 40 la vieccia numeri pari l'influenza 32 il covid il covid 28 la variante dai dai adesso ci abbiamo per 5 e per 10 ragazzi se non vinciamo qui spacco il tavolo dai per 5 ci abbiamo il numero 49 49 e non gestas magari per 10 è facile facilissimo 14 eccolo qua che non c'è 14 è pervenuto mamma mia oggi è andata malissimo abbiamo vinto uno spicchio di niente guarda bene devo ricontrollare 29 non c'è 37 si è perso per la strada poi ci abbiamo 47 23 22 niente ragazzi niente veniamo di là aspetta 41 sperate che guarda il pitone non esiste 49 la mutanda regata niente il 14 e il suzuki non ce n'è no dai non voglio ragazzi guarda ogni tanto ci sta ma abbiamo vinto prossimo mese dai prossimo mese ne prendiamo uno da 120 ne prendiamo 50 da 2000 sbaracco tutto dal tabaccaio niente ragazzi questa volta è andata male adesso vado là glielo porti indietro mi faccio vedere i soldi non è furbo ma che furbo giova ho pinto giova ho pinto là dai giova ho pinto mi raccomando è sempre noi massimo 10 euro e una volta al mese se va bene anche due se va bene boh sennò 10 euro se va bene bene sennò va bene avete perso 10 euro eh senza esagerare 10 euro al mese si può anche fare la portavo in vacanza 10 euro andavano andavano in vacanza altro che 10 euro va bene dai salutiamo salutiamo tutti e comunque niente al prossimo mese sempre con il gratta e vinci massimo 10 euro guardate ragazzi c'è il gratta vinci e il gratta culo ecco siamo a posto benissimo benissimo salutiamo alla prossima un abbraccione un bacione orwars evviva l'amore orwars 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 ore uar orwars alla prossima sono le ore e uar la prossima adesso per consolazione facciamo l'amore allora ho paura sono desolato ho paura eh paura sono minore giorno col covid è diventato arancione andiamo dai ciao ecco a fare per la prossima